I Volturi sono la cosa più vicina a una famiglia reale. Fanno rispettare la legge. I vampiri hanno leggi. Sei un'umana che sa troppe cose di noi. Loro potrebbero ucciderci tutti. Il mio mondo non è un posto per te. Il mio posto è dove sei tu. Questa è l'ultima volta che mi vedrai. Promettimi che non farei niente di insensato o di stupido. Ovunque io guardi, vedo la sua assenza. È come se avessi un buco enorme nel petto. Io so che cosa ti ha fatto. Credimi, Bella, io non lo farei. Non lo farei mai. Conosco soltanto un modo per vederlo. Che c'è? Ti fai di adrenalina adesso? Se hai il pericolo che serve per riuscire a vedere lui, cercherò il pericolo. Ma che ti è venuto in mente? Edward è convinto che tu sia morta. Cosa? Sta andando dai volturi. Vuole morire anche lui. Lui ti ha lasciata, Bella. Non ti vuole più. Ti prego, resta qui per me. No, devo andare. Farà un gesto eclatante. I volturi lo uccideranno se mostrerà il suo corpo alla luce del sole. Non farlo, Edward! No! La ragazza viene con noi. Andate all'inferno. Edward ha paura. Andate all'inferno. Questo fa un po' male No, ti prego, ti prego! No, ti prego!